E sentiamo su che cosa appuntano per la riqualificazione di Roma anche le altre liste che oggi hanno registrato simboli e nomi dei candidati per la corsa al Campidoglio. Il Centro Democratico a Roma vuole rappresentare quella parte di moderati, quella parte di centrosinistra che guarda al centro. Abbiamo visto che a livello nazionale il centrosinistra è perdente quando non amplia la sua base elettorale. Il Centro Democratico vuole esserci e vuole esserci anche con un candidato capolista molto importante. Barbara Contini sarà il candidato capolista del Centro Democratico e è un grande funzionario internazionale, funzionario dell'ONU, che ha avuto fra le mani degli impegni molto importanti in questi ultimi anni.